Monte Sant'Angelo amplia l'offerta per i tantissimi turisti che ogni anno visitano i suoi scorci più suggestivi, realizzando una mappa dettagliata delle strutture ricettive dei luoghi da visitare e conferma la card MSA, un biglietto unico che permette di visitare i più bei monumenti del comune garganico a un prezzo scontato. Anche quest'anno sarà possibile visitare la città patrimonio dell'UNESCO, grazie al culto millenario per San Michele, utilizzando una card che consentirà soli 6 euro, anziché i 9 euro e 10 centesimi per le visite singole, di ammirare il patrimonio storico del castello normano Svevo Aragonese, del battistero di San Giovanni in tumba e dei musei delle arti e tradizioni popolari, devozionale e lapidario. La novità è rappresentata da una dettagliata cartina contenente tutte le indicazioni utili per i turisti su dove dormire e mangiare, oltre ai numeri di pubblica utilità. La piantina è distribuita gratuitamente nei punti di informazioni turistiche, nelle strutture ricettive e commerciali cittadine. Il visitatore con uno sconto naturalmente significativo può conoscere tutto quello che la città offre, può restare di più nella nostra città e quindi promuoverla ancora di più. Negli ultimi mesi Monte Sant'Angelo sta cercando di promuovere ancora di più le sue bellezze storiche e paesaggistiche al nord e all'estero. Siamo protagonisti della campagna Open Days della regione Puglia, siamo stati a promuovere la nostra città con gli altri siti UNESCO della Puglia, a Parigi, a Dublino, siamo stati presenti a luglio nelle maggiori stazioni ferroviarie d'Italia con dei totem molto grandi.